Gym Sport Olio Prepara Muscolo Eco Bio, con oli di mandorle, semi di uva, limone, geranio e garofano. Istanti prima dell'attività fisica, versare qualche goccia sulla parte interessata, massaggiare con movimenti circolari e picchiettare per attivare e favorirne l'assorbimento. È il trattamento indicato per tonificare più facilmente durante l'allenamento. Una formula più leggera e meno unta, che grazie all'aggiunta di molecole di sintesi, si stende e assorbe più facilmente di un comune olio, con aroma di menta fresca. Gym Sport Olio Prepara Muscolo di Feja Milano rispetta la pelle, esclusivamente con principi attivi organici, ingredienti controllati e rigorosamente certificati Eco Bio. Prima della sua applicazione e dopo per asportarne l'eccesso, utilizzare Silhouette Gel Doccia rinfrescante.